Buongiorno a tutti, oggi prendiamo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che è intervenuta in tema di sanzioni disciplinari nel settore scolastico per iniziare una serie di approfondimenti sull'argomento. In particolare la Corte di Cassazione con un'ordinanza dello scorso novembre era stata chiamata ad intervenire sulla questione del riparto di competenze in materia di procedimento disciplinare tra dirigente scolastico e ufficio dei procedimenti disciplinari. Nello specifico la vicenda trae spunto, trae origine dall'applicazione di una sanzione da parte del dirigente scolastico nei confronti di una docente, in particolare la sanzione della sospensione di sei giorni dal servizio. La docente aveva impugnato la sanzione innanzi al Tribunale di Torino che ne aveva disposto l'annullamento, pronuncia confermata dalla Corte d'Appello di Torino che aveva evidenziato una incompetenza del dirigente scolastico ad applicare una sanzione di tale misura. Il Ministero aveva proposto ricorso per Cassazione rilevando la erroneità della pronuncia da parte della Corte d'Appello di Torino. Tuttavia la Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza dello scorso mese di novembre, annunciando un interessante principio di diritto che sebbene si riferisca ad una vicenda nata sotto il precedente assetto normativo relativo ai procedimenti disciplinari è comunque applicabile anche al nuovo regime attualmente vigente. In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito qual è il criterio per determinare la competenza del dirigente dell'ufficio a quale appartiene il pubblico dipendente rispetto alla competenza dell'ufficio dei procedimenti disciplinari. Nello specifico la Corte ha evidenziato che il criterio che deve seguirsi per ripartire la competenza tra il dirigente e l'UPD è quello riguardante la sanzione massima prevista per la condotta oggetto di procedimento disciplinare. Quindi nel momento in cui la sanzione massima ricade nella competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari automaticamente viene meno, secondo la pronuncia della Corte, la competenza del dirigente dell'ufficio ad applicare quella specifica sanzione. Questo nonostante l'articolo 55 bis del testo unico del pubblico impiego abbia nei suoi passaggi una diversa dicitura rispetto alla competenza dei dirigenti a quella dell'UPD, nel senso che rispetto alla competenza dei dirigenti il testo unico del pubblico impiego parla di sanzione che sarebbe applicabile secondo la pubblica amministrazione, mentre il testo unico in ordine alla competenza dell'ufficio di procedimenti disciplinari fa riferimento alla sanzione massima applicabile. La Cassazione ha chiarito questo passaggio rilevando che la distinzione di competenza tra dirigente dell'ufficio e ufficio procedimenti disciplinari è rilevante a tal punto che la violazione del riparto di competenza determina l'invalidità della sanzione applicata. Quindi il criterio e il principio di diritto enunciato dalla Corte richiama quale discrimine la sanzione massima è di tale applicabile al fatto specifico quale criterio per stabilire se la competenza rientra nell'ufficio e dell'ufficio dei procedimenti disciplinari piuttosto che del dirigente scolastico. Prossimamente faremo ulteriori approfondimenti rispetto a questa materia che è particolarmente interessante anche alla luce delle novità normative introdotte dalla legge Madia. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.